Festival a tutti. Adesso questa è mossa perché l'ho tagliato io a farlo. Beh, comunque è come così. Cioè, poi lo sto facendo io. Però prima non faceva così. Prenda che sulla sua sedia? Allora, allora, allora. Allora, allora, allora. Guarda. Vediamo. Ah, pronti? Ecco. Allora, mette a fuoco. Ora, qui state molti che amici? Ti fanno stai perché adesso c'è più un'altra. E quindi, o metti il flash o metti il futuro. A tutti gli altri. E da i tuoi stai in gioco. E da i tuoi stai in gioco. E dai a delle faini. E da i tuoi stai in gioco. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.